Sulla vicenda Team KKR il PD e la sinistra si stanno esibendo in uno squallido spettacolo di partigianeria pro-Macron. Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda dell'OPA preliminare lanciata dal Fondo USA-KKR per acquistare il 100% dell'azienda, ora al 23,7% di vivendi e al 9,8% di CDP. L'ETA e Calenda entrano a gamba tesa nella trattativa, con il rischio di alterare le regole del libero mercato, auspicando una soluzione in favore del Fondo americano, e accusando l'attuale azionista di riferimento di Team Vincent Bolloré di essere un pericolo per le sue presunte simpatie politiche per Eric Zemmour. Sull'operazione il punto di vista di Fratelli d'Italia è un altro. Lo spiega bene la Meloni. Noi che badiamo solo agli interessi nazionali e non facciamo le maggiorette di quelli stranieri, abbiamo una posizione chiara sull'operazione, la rete deve essere pubblica e il servizio venduto in libera concorrenza. Il PD è a 100 gravi ormai diventato l'ufficio stampa dell'Eliseo. Auguri e buon lavoro a LETA e Calenda, nuovi portavoce di Macron, dichiara la presidente di Fratelli d'Italia, che risponde alle prese di posizioni dei leader dei due partiti. Sul tema della rete sono tornati infatti sia il segretario del PD, Enrico Letta, sia il leader di azione Carlo Calenda. I due hanno parlato dal palco della festa dell'ottimismo organizzata dal quotidiano Il Foglio a Firenze ed entrambi in one sostanza respinto l'idea che il fondo KKR sia a priori una presenza straniera più pericolosa o meno politicizzata di quella dell'attuale azionista di riferimento di Team, ovvero Vivendi. Io sono favorevole a KKR e penso che avranno una gestione meno politicizzata di Vincent Bolloré. La sua era molto politicizzata, basta vedere come sono cambiati i fornitori quando a condurre l'azienda c'era lui, ha sostenuto leader di azione al messaggero. A sua volta Letta ha messo in evidenza come la preoccupazione per una team in mano a stranieri debba essere a tutto tondo, e dovrebbe riguardare non solo l'OPA di KKR, ma anche Vivendi, dato il ruolo politico assunto in Francia da Bolloré. Il finanziere Bretone, ha aggiunto, è sceso in campo con idee precise, non è un finanziere come gli altri, è il principale sostenitore di Eric Zemmour. Grazie 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 per la visione!